Ciao amici, mi chiamo Paola, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Gesù, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Andrea, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Denis, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Elena, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Anzio, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Anzio, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Anzio, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo José Antonio, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Anzio, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo José Ramiro. Ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria di Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Isabel, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Guillermo, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Minchen, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Paola, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria di Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Alvaro, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria de Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Elena, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria di Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria di Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, buongiorno. mi chiamo Isame, e questo è i miei segni, e io studio a livello 5 nella scuola elementare Santa Maria di Grazia. Ci vediamo, a presto. Ciao amici, mi chiamo Alvaro, ho undici anni e vivo a Munche, Spagna, e studio a livello 5 della scuola elementare Santa Maria di Grazia. 5 della scuola elementare Santa Maria di Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, ci amo, auguri, ho unici anni e vivo a Munche e Spagna. Studio livello 5 della scuola elementare Santa Maria di Grazia. Grazie, a presto. Ciao amici, mi chiamo Adriana, ho 11 anni e vivo a Murfia, Spagna. Studio livello 5 della scuola elementare Santa Maria di Grazia. Grazie, a presto. Grazie a tutti.